Un settore in crisi, quello lattiero caseario, che si è confrontato nel convegno organizzato da Asso Casearia presso Palazzo Vidoni di Confcommercio. La problematica dei costi dell'energia sta soffocando molte realtà costrette a garanzie esorbitanti, ma non è l'unico problema. Ci sono rincari delle materie a prima che hanno superato il 50% e la domanda sul mercato diminuisce. La categoria è obbligata ad alzare i costi per sopravvivere. Per questo l'intervento del governo è necessario per supportare imprese e cittadini. Ci sono aziende veramente in difficoltà in questo momento. Gli aumenti nei costi dell'energia, ma anche di tutte le componenti di produzione, ha messo veramente in grande difficoltà le aziende del nostro settore. A partire dal costo della materia prima, che abbiamo visto crescere nel giro di qualche mese, addirittura del 50%. Quindi veramente una situazione molto molto difficile. Se non si riuscirà a trasferire al consumo, perché poi purtroppo la fine degli aumenti va al consumatore, se non si riesce appunto a trasferire questo aumento sarà molto molto difficile andare avanti. I gestori di energia chiedono delle garanzie alle aziende lattiero casearie e le aziende sono in difficoltà. Un problema ulteriore conseguenza della siccità di quest'estate. La produzione è stata inferiore, così come la produzione di mangimi e purtroppo anche la qualità dei prodotti ha subito una flessione. Questa siccità ha causato non soltanto una minor produzione di latte, ma anche una produzione più scarsa di mangime che anche di minor qualità. Quindi è tutta la filiera che sta soffrendo sotto questo punto di vista. La domanda è calata, i prezzi sono molto alti, anche perché i costi energetici in Unione Europea sono molto più alti rispetto ad altre zone del mondo. Ci aspettiamo che il nuovo governo possa aiutare le aziende a far fronte a queste spese, soprattutto quelle energetiche.